Io sono entrato a Ferragna alla fine del 1970, il primo impatto è stato orrendo, dirò perché mi hanno messo a fare il capoturno in un reparto di produzione di prodotti chimici organici, tutti prodotti tossici e pericolosi, con colleghi dell'età che poteva avere mio padre o giù di lì, non solo colleghi, ma io avevo il compito di dirigere, quindi di organizzare il lavoro e di controllare che fosse eseguito in modo perfetto una squadra di 15 uomini all'età di 20 anni. La mia formazione è stata quella di un mese, mi hanno messo insieme in turno ad un operaio anziano che faceva il capoturno di fatto, anche se non era nominato e doveva insegnarmi a fare il capoturno in questo mese, alla fine del mese sarei diventato capoturno e lui sarebbe tornato a fare l'operaio, quindi potete immaginare come mi vedesse bene questa persona e cosa mi ha insegnato, è stato veramente brutto. Il reparto lo paragonavo all'inferno di Dante proprio, perché era un capannone enorme con un corridoio lunghissimo, circa 50 metri forse anche di più, dove c'erano delle caldaie, le chiamavamo, erano reattori chimici di reazione, per buona parte interrati solo con una parte fuori terra, con dei boccaporti che si aprivano e lì si caricavano tutti i prodotti che andavano dentro, i solventi, c'era un agitatore che faceva queste reazioni. Erano due file di caldaie disposte lungo tutto il corridoio del reparto, in mezzo alle caldaie c'era un canale rivestito in gress, quindi inattaccabile agli agenti chimici, di circa 2 metri di larghezza per forse 2 o 3 metri di profondità. In questo canale venivano scaricati, parliamo degli primi anni 70, tutti i prodotti chimici di scarto, anche solventi bollenti, amine aromatiche, nitro derivati, tutte cose pericolose che andavano a finire direttamente nel Bormida. Dal reparto c'erano delle vasche di decantazione, ma erano o piene o malfunzionanti e comunque andava tutto a finire nel fiume, infatti pesci non ce n'era più da tempo. Una volta c'erano degli operai che saldavano con la fiamma ossidrica o qualcosa del genere un tubo sul fiume e a certo punto ha preso fuoco il fiume, tanto per dire, perché ci sono solventi che non sono miscibili con l'acqua, sono più leggeri e quindi stanno in superficie, per cui una fiamma della saldatrice ha fatto sì che prendesse fuoco il fiume e lungo tutto il reparto sono rientrate le fiamme, quindi una cosa abbastanza terrorizzante. Tenete presente che io nel primo anno di lavoro, solo nel mio turno ho visto 7 incendi in reparto, ho visto prendere fuoco 1500 litri di benzina al chiuso, sono cose che al giorno d'oggi sono proprio inimmaginabili. È sempre andata bene, poi nel 1972 credo è arrivato un ingegnere americano con un esplosimetro, un strumento che misurava le cariche elettrostatiche, andava a misurare in tutte le caldaie, tubi etc., e allora hanno fatto una variazione importante, perché noi fino a quel momento spostavamo i liquidi, quindi i solventi bollenti, tutte queste cose qua, attraverso le tubazioni d'acciaio comprimendo con aria, che è una cosa da kamikaze, l'aria aiuta alla combustione. Questo signore americano ci ha fatto mettere da quel momento invece dell'aria l'azoto, essendo gas inerte non c'era più problema. Purtroppo anni dopo si è verificato un incidente mortale, nonostante questo, infatti è morto un ragazzo padre di due figli, ma è stata una cosa, una disgrazia veramente proprio. Durante la prima fase del capoturno facevo i turni e purtroppo facevamo i 3-1 cosiddetti, che sono una cosa orrenda anche questa. Non so se sapete com'è, allora si fa ad esempio 3 giorni del turno dalle 6 alle 2, un giorno di riposo, 3 giorni dalle 2 alle 10, un giorno di riposo, 3 giorni di notte, un giorno di riposo. Quindi ogni 3 giorni si cambia vita, si cambiano tutti gli orari del mangiare, del dormire e sempre intercalati da un giorno, intervallati da un giorno di riposo, sempre, che sia Natale, Capodanno, Sabati, Domeniche, non esiste più niente. Quindi a 20 anni questa cosa ti distrugge, distrugge le amicizie, le possibilità di sbagliare, tutto. Gli operai, alcuni erano persone stupende, bravissime, però direi almeno il 60% cercavano di fare meno che potevano, anche perché la Val Bormida è una zona tendenzialmente rurale, quindi molti di loro avevano il campo, lavoravano la terra di giorno e poi venivano magari a fare la notte in stabilimento, per cui erano stanchi e io andavo a svegliarli da tutte le passi, si rintanavano negli angoli del reparto e dormivano. È una posizione terribile perché gli operai devono essere controllati e il lavoro deve rendere, perché il capoturno deve poi rispondere al caporeparto, il quale tende a pressarlo, per cui il capoturno è veramente una posizione orribile perché è tra l'incudine e il martello proprio. Io ho fatto parte dell'esecutivo del Consiglio di Fabrica per circa 10 anni, però sono sempre stato molto poco politico, più tecnico, per cui mi sono occupato della gestione della commissione ambiente, dell'ambiente di lavoro, per cui quando c'era qualche incidente, qualche infortunio, qualche situazione di pericolo, gli operai lo sapevano e ci chiamavano e noi insieme a un rappresentante dell'azienda andavamo a vedere, a fare un sopralluogo sul posto e cercavamo, discutendo con l'azienda, di fargli cambiare le condizioni di riuscire e sistemare bene la cosa. Questa era un po' la mia mansione principale. Poi erano gli anni, c'era l'autunno caldo, gli anni 70, 71, 72, 73, scioperi ce ne sono stati parecchi con picchetti davanti ai cancelli, con scontri, quindi un clima molto molto caldo. Una volta abbiamo fatto persino sciopero alla mensa, perché avevamo una mensa che ci forniva del cibo veramente scadente e quindi abbiamo fatto, anche lì picchettato, perché ovviamente la gente voleva andare a mangiare, abbiamo cercato di impedire alle persone di andare a mangiare per un giorno ad esempio. Nella commissione ambiente, come dicevamo prima, ci occupavamo prevalentemente della salute dei lavoratori, lo slogan era la salute non si paga in quei tempi, anzi perché c'erano molti operai che volevano andare a lavorare nei reparti chimici, dove ho cominciato la mia storia, perché in questi reparti venivano pagate le penosità del lavoro per 8 ore al giorno, ad esempio nel caso del reparto T1 etc., quindi veniva compensata la salute con la monetizzazione praticamente, quindi noi andavamo contro questo genere di logica, non ci occupavamo molto dell'ambiente esterno, perché ad esempio inquinavamo tranquillamente il fiume Bormida con gli scarichi. Io venendo da Savona dovevo raggiungere lo stabilimento con vari mezzi, l'ho raggiunto nei vari anni e per un periodo ho preso il treno ad esempio e il treno ti lasciava in fondo a un viale di 2 km per arrivare allo stabilimento, che ci facevamo, c'era un pulmo ma di solito si riempiva subito con i primi e poi ciccia, quindi se lo faceva praticamente a piedi, quando gelava c'erano i marciapiedi che erano delle lastre di ghiaccio, camminavamo tutti vicini, quando uno scivolava che partiva si attaccava un altro, un altro, un altro, cadevamo a decine proprio, tutti per terra, era anche divertente chiaramente ai primi anni, poi dopo un po' meno e poi vabbè con la macchina, io ricordo che avevo la 600, quando facevo i turni però i primi anni, andavo con la 600, gli sgonfiavo le gomme per andare meglio sulla neve, sgonfiavo un po' le gomme, andavo sulla neve, poi facevo le derrapate col freno a mano, era divertente andare a Ferragna, il posteggio era una cosa pazzesca perché c'erano migliaia di macchine e tante volte vedevi le persone che usciva primo ad esempio dallo stabilimento, poi girava per delle ore per trovare la sua macchina perché non la trovava, io ero uno di quelli che mi perdevo la macchina. Grazie. 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 Grazie.